Monsignor Franco Cecchin, qual è il messaggio che ha scelto di rivolgere ai lettori di Resigone Online questa domenica? Il titolo è già abbastanza significativo. La crisi attuale interpella la Chiesa. Vorrei che si superasse un luogo comune, che la Chiesa sia soltanto una realtà all'interno della sacristia. No, la Chiesa è l'insieme dei discepoli di Gesù oggi e vive il cammino dell'umanità e oggi si vive un momento escremamente difficile. L'abbiamo detto e ripetuto, crisi economica che ha alla radice una crisi etica, una crisi esistenziale. In un momento come questo la Chiesa, avendo la buona, lieta notizia che Dio ci ama in Gesù Cristo e Cristo è davvero risorto, la parola ultima è una parola di vita e Dio non ci abbandona. Allora dovremo interrogarci. La Chiesa oggi ha un atteggiamento di accoglienza, di condivisione, aiuta le persone a partire da noi, a prendere coscienza che il vero problema è sì quello economico, è quello delle somme, delle socrazioni, ma è un problema soprattutto morale, è un problema di un modo diverso di impostare la vita. L'uomo non è solo economia, è lavoro, è creatività, è attenzione, è solidarietà, è relazione. Mai come adesso la gente comincia a riflettere sulle cose che contano e andando all'essenziale a un altro modo di rapportarsi. Allora il discorso, ridurre la spesa, togliere le tasse quando sono esagerate, togliere i privilegi e soprattutto investire in qualcosa, soprattutto per i giovani, nasce se tu hai un atteggiamento diverso come mentalità, come sensibilità, come stile di vita. è più bello dare che ricevere. Allora questo messaggio diventa una provocazione per la Chiesa, ma anche per ogni uomo e ogni donna di buona volontà. E quelli del resegone sono persone intelligenti che vogliono capire, entrare nella storia, ma capendo e poi essere chiamati in prima persona a dare la risposta. Se ciascuno di noi dà la risposta, il mondo già adesso potrebbe vivere meglio e sperimentare la civiltà dell'amore.